Dicono che la mia testa sia dura, più dura del mio pugno. Ci sono domande che hanno bisogno di risposte. Io ho sempre sbattuto contro i muri per ottenerle. Non ti azzardare a combattere. Certo, mamma. Certo che continua. Non devi farti prendere dalla rabbia. Ma c'è rabbia e rabbia, io ho trovato quella giusta. Una donna deve stare a casa con i figli. Beh, io non devo. Io amo stare a casa con loro. Un atleta non deve mollare. Io invece l'ho fatto. Me ne sono andata. Tuo padre è stato un grande pugile e un arbitro. Si allenava qui, lo sapevi? Comunque... Per me niente dura per sempre. Chi fa box si riconosce. Siamo tutti irrequieti. Sempre alla ricerca. Io continuo a cercare sul ring. E lì, in quel momento mi rispondo. Strappare a pugni quella risposta, giorno dopo giorno, è quello che posso chiamare vittoria. Grazie. 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 Grazie a tutti